L'assessorato alle politiche sociali del Comune di Atessa si distingue particolarmente per l'ottimo lavoro svolto nel corso di questi anni. Non lo dico solamente perché l'abbiamo qui di fronte, perché è anche una mia vicina di casa, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. È una delle attività che si svolgono meglio per quanto riguarda l'attività amministrativa del Comune di Atessa e i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti con questa inaugurazione del progetto che sinteticamente chiameremo Progetto Agora. Vero, Assessore Ceroli? Sì, grazie Antonio. Ti ringrazio veramente per quello che dici. Oggi io sono molto soddisfatta perché chiaramente vede la luce questo progetto molto importante che è il progetto di inclusione lavorativa. Ho visto che prima intervistavi la dottoressa Gianluca, la responsabile di piano dell'ente d'ambito, che avrà spiegato nello specifico di cosa si occuperà questo progetto. Io oggi mi voglio limitare a dire che sono soddisfatta. Sono soddisfatta perché apre questa struttura in un punto nevralgico e importante della nostra zona e sarà una struttura che vedrà la sua connotazione proprio per l'inclusione lavorativa e per la formazione dei giovani, l'inclusione lavorativa dei soggetti svataggiati, oltre ad avere una bellissima sala conferenze, quella dove oggi abbiamo tenuto la conferenza stampa di illustrazione di questo progetto, che sarà anche a servizio di tutta la collettività, oltre che sarà oggetto di richiesta di accreditamento regionale per quanto riguarda i corsi di formazione. Sì, nel piano sottostante, da settembre, si aprirà questo sportello del lavoro, sarà operativo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dove verranno ad essere contattati tutti i soggetti che sono stati selezionati nel mese di giugno e che saranno beneficiari di vauce formativi, di tirocini formativi, ma l'obiettivo, come dicevamo prima durante la conferenza stampa, è sicuramente quello di trovare una collocazione fissa, una collocazione duratura a tutte le persone che hanno più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Chiaramente siamo ancora nella pandemia, siamo usciti forse dal periodo più grave, o meglio ce lo auguriamo, però adesso raccogliamo le ceneri e quindi è chiaro che il lavoro è stato quello che ha maggiormente venuto a mancare nelle famiglie, lo abbiamo toccato col mano, quindi oggi questo ufficio ci dà la speranza, ci dà la possibilità di lavorare per fare in modo di riincludere tutti quelli che magari già da prima della pandemia avevano problemi ad inserirsi, ma anche quelli che a causa della pandemia sono rimasti senza lavoro. Che dire, ripeto, sono anche molto emozionata perché chiaramente questo è un progetto molto importante, ringrazio tutti i partner e tutti coloro che hanno contribuito a far sì che Atessa potesse ottenere questo finanziamento regionale e diventare un punto nevralgico dei 45 comuni, sia dei 37 dei comuni del Basso Chietino, ma anche degli 8 comuni che fanno capo al comune di Ortona, all'ambito ortonese. Io credo che questa sarà una struttura, un progetto duraturo che caratterizzerà la nostra zona, che vedrà Atessa e quindi la sala polivalente di Montemarconi diventare un punto nevralgico per quanto riguarda l'inclusione, la formazione e soprattutto ci auspichiamo nella grande collaborazione che speriamo di ottenere con le industrie presenti nel nostro indotto, con tutte le aziende, per fare in modo che ci sia effettivamente poi non solo il tirocinio, non solo la formazione, ma l'inclusione duratura. Il personale che si occuperà concretamente di far funzionare questa macchina, ci può dire da chi sarà composta? Nello specifico lo stanno selezionando adesso, sicuramente sarà gestito dal consorzio Consol che ha sede in San Giovanni Teatino e oggi era presente la Presidente, la Dottoressa Doro Di Santo, quindi sarà gestito da personale altamente specializzato, ci saranno anche psicologi, formatori, educatori e quindi adesso nei primi giorni di settembre lo vedremo attivo e quindi sempre aperto e a disposizione della collettività perché, forse prima ho dimenticato di dirlo, c'è anche una sala internet con un internet point che può essere sempre utile a servizio di tutta la cittadinanza. Proprio qualche giorno fa, in uno degli ultimi servizi, il mio augurio era quello di assistere ad eventi con inaugurazioni, nuove opere e neanche a farla apposta detto fatto. Sindaco Borrelli, oggi siamo ad inaugurare questo progetto, segno che però anche quando dicevamo noi di cogliere le opportunità, avendo anche le giuste armi a disposizione, non è una polemica ma è una buona cosa. Certamente è una buona cosa, rientra in una visione che noi abbiamo, in delle scelte che abbiamo fatto, abbiamo detto fin dall'inizio che il nostro obiettivo era di indirizzare le risorse del Comune, i bilanci ordinari per la cura del territorio e per le politiche sociali. Questa è un'opera che rientra nelle politiche sociali, abbiamo intercettato il bando della Regione e abbiamo messo anche qualche modesta risorsa aggiuntiva del Comune per fare in modo che questa struttura funzionasse e aprisse ed è importante questa struttura perché è al servizio di un vasto territorio, di un intero territorio. Abbiamo lavorato insieme ad altri comuni, ad altri enti, l'Unione dei Comuni della Val di Sangro, due enti d'ambito, 45 comuni complessivamente gravitano su questa struttura. Il progetto è un progetto di inclusione sociale ma riguarda la formazione e l'avvio al lavoro di una fascia particolare della popolazione che per varie ragioni si trova in difficoltà nel corso della sua vita. ha come obiettivo principale non quello di fare assistenzialismo ma lavoro, di indirizzare al lavoro queste persone che parteciperanno qua in queste sale a corsi di formazione, a corsi di addestramento per metterla appunto in condizioni di essere poi accolte dal mondo del lavoro. Qui abbiamo appunto anche una grossa realtà industriale nella nostra valle, ma non solamente diciamo nel nostro comune, nella nostra valle, in tutta la provincia, in tutta la regione direi ed è oltre che questo aspetto diciamo molto molto importante che rientra appunto in uno degli obiettivi che noi abbiamo perseguito e perseguiamo, abbiamo aumentato d'altra parte il 50% i fondi del comune messi a disposizione delle politiche sociali, come è stato ricordato anche nella conferenza stampa, oltre che nella cura del territorio, noi abbiamo destinato le risorse a questi scopi, a queste finalità, però questo è importante, è importante anche per questa zona del nostro comune, Montemarconi, perché questa struttura è stata completata con il piano di sotto, ma al di là diciamo della realizzazione edilizia importante che era stata già avviata alla precedenza amministrazione, che noi abbiamo completato, ma gli abbiamo dato una vocazione, una destinazione d'uso, uno scopo, una finalità, che è importante perché questa struttura richiama persone da un vasto circondario, non solamente di Atessa, del comune di Atessa o di Montemarconi, qua verranno persone di tutti questi 45 comuni e verranno anche quelli che sono, diciamo, gli addestratori, i formatori, gli psicologi, i formatori, i docenti, tutti quelli che dovranno lavorare, quindi diventa un centro veramente importante e un punto di riferimento anche per questa zona, per Montemarconi e per tutto il comune di Atessa. E rientra esattamente anche questo, il terzo obiettivo, avevamo tre obiettivi, politica e sociale, 50% in più di risorse, cura del territorio, 50% più di risorse, Atessa al centro del territorio. Questo è uno degli esempi, non è l'unico, il penultimo l'abbiamo avuto con l'elezione nel comitato ristretto dei sindaci della ASI, a cui Atessa si mette oggettivamente, al di là delle polemiche che lasciamo stare, lasciamo a chi le vuole fare, si mette oggettivamente al centro di un territorio come punto di riferimento di una vasta area, di un vasto territorio. Ecco, lei ha anticipato una domanda che volevo farle e mi ha risparmiato magari l'improperi di qualche cittadino del centro storico, perché sono d'accordissimo con lei che per essere aggreganti bisogna cercare di fare qualcosa nella zona Valliva. Adesso il prossimo step, ovviamente, non perché abito io lì, ma a Piazzano bisogna fare qualcosa nell'area Gru. Sì, bisogna fare qualcosa all'area Gru, abbiamo partecipato a questo bando, vedremo adesso come finirà se non intercettiamo questo bando. Ci saranno altre occasioni, ci saranno altre opportunità, però dobbiamo anche imparare a ragionare in termini di territorio complessivamente, non in termini di quartiere, perché una delle cose che dovremmo tutti quanti sforzarci di superare per arrivare a concepire un'unità del territorio è che non è che in ogni quartiere, in ogni zona ci deve essere la replica della stessa cosa, perché anche abbiamo polemizzato, ma non voglio adesso ricordare cose del passato, siccome c'è la sala polifunzionale nel centro, dobbiamo fare la sala polifunzionale a Vale, si fanno le cose là dove servono, come servono secondo le caratteristiche del territorio. Ad esempio, Piazzano ha beneficiato del più bel parco giochi per bambini, famiglie che abbiamo, parco del Tratturo che è un po' abbandonato a se stesso, l'abbiamo riqualificato, l'abbiamo attrezzato con nuovi giochi, restaurato, dato una funzione, una vocazione, adesso è un punto di riferimenti e di ritrovo di bambini e di famiglie. Però che cosa è successo? Che nel momento in cui abbiamo fatto quel parco famiglia, bambini, giochi a Piazzano, ci sono stati almeno altre decine di persone, ognuna delle quali è venuta a chiedere il parco giochi sotto casa. Allora, se facciamo un parco di quella importanza, di quella incidenza, di l'investimento, si fa in un'area dove si può fare, lì c'era l'area adatta, c'era già una predisposizione di aria, si trattava di restaurarla, di valorizzarla, ma non è che possiamo andare a fare il parco giochi in ogni quartiere da tesa, così qui c'era una struttura, quella struttura è stata indirizzata dal punto di vista edilizio e dal punto di vista soprattutto della utilizzazione, della destinazione funzionale a questo scopo qua a Montemarconi. Sicuramente Piazzano ci saranno altre cose, Piazzano beneficia tra l'altro, oltre di una serie di cose fatte, chi sta lì lo vede dagli asfalti a risolvere quel problema che non era nostro dell'ANAS, del passaggio sotto il ponte di via degli orti, beneficia anche della pista ciclabile. Noi adesso a Piazzano andiamo a fare un investimento che completa la pista ciclabile, per cui avremo una pista che attraversa gran parte della nostra zona palliva, da San Luca, Montemarconi, Piazzano. L'altro capolinea della pista ciclabile con anche lì attrezzature eginiche e altre cose sarà a Piazzano, quindi Piazzano avrà anche la pista ciclabile. Dopodiché cercheremo di utilizzare quell'area, ci stiamo pensando, abbiamo fatto vari progetti, vari tentativi e prima o poi riusciremo a dargli anche qualcosa di importante, ma sicuramente di diverso da una sala polifunzionale che è destinata qui ad altri scopi e da un'altra vocazione. Noi abbiamo una visione unitaria del territorio, d'altra parte vedi Antonio se tu giri vedrai che sono aperti una serie di cantieri e ognuno di questi posti, non tutti perché non possiamo rimettere mano contemporaneamente a tanti anni e anni di incurie e di abbandono, non è una polemica e così è stato riconosciuto anche dai precedenti amministratori, ma a San Luca ci sarà uno spazio a San Luca sulla piazza Gabriele d'Annunzio. Saletti avrà qualcosa, un centro di riferimento, un centro di aggregazione, un centro di ritrovo molto particolare che speriamo nelle prossime settimane di poter aprire e siamo in ritardo per tante ragioni, perché ci sono state le ferie, perché le materie prime, alcune materie prime mancano, alcune aziende sono ferme, ma appena si completerà, ad esempio si capirà a Saletti che ha qualcosa di nuovo che non c'era mai stato, così come a San Luca e così come da altre parti, Castelluccio, ne potrei citare tanti, li citeremo man mano, li vedremo, avremo modo di vedere e di verificare tutto quello che stiamo dicendo. Comunque oggi è una delle tappe, uno dei progetti che va nella direzione giusta, nella direzione che abbiamo auspicato e che siamo riusciti anche a realizzare, grazie anche al concorso di tante altre circostanze e di tante altre forze. La dottoressa Antonella Gianluca ha presentato oggi questo importante progetto di inclusione sociale che tende a favorire le persone fragili e svantaggiate di un territorio abbastanza vasto, 45 comuni, due enti d'ambito ed è la sala polivalente di Atessa con gli uffici sottostanti che sarà, diciamo così, la base operativa di tutto il progetto. La scelta del Comune di Atessa e quindi dello spazio che è stato appositamente realizzato dal Comune trova giustificazione nell'attenzione che da sempre il Comune ha riservato alle politiche sociali, all'inclusione lavorativa dei soggetti fragili, mettendo a disposizione risorse aggiuntive rispetto a quelle finanziate attraverso i fondi FSE. Con questo progetto noi andremo a realizzare un intervento di inclusione to-cure in favore di persone fragili, di giovani in cerca di prima occupazione, di giovani disoccupati che popolano 45 comuni afferenti all'ambito territoriale sangroaventino e all'ambito ortonese e andremo a realizzare un intervento che prevede tre assi di azione. L'attività di orientamento al lavoro, l'attività di valutazione delle competenze, valorizzazione e delle competenze di ciascun partecipante e un percorso di inclusione sociolavorativa che sarà inizialmente gestito attraverso un tirocinio di tre mesi. 45 comuni abbiamo detto interessati, praticamente tutti i comuni del sangroaventino e dell'ambito ortonese. e che cosa bisogna fare nel concreto per poter usufruire dei vostri servizi? Chi è interessato che cosa deve fare? Allora, in luglio l'Unione Montana dei Comuni del Sangro ha emanato e emesso un avviso pubblico. A questo avviso pubblico hanno risposto una molteplicità di giovani, di donne e di soggetti progetti fragili residenti sul territorio di questi 45 comuni. Pertanto, già a partire da settembre, noi inizieremo a lavorare su questa popolazione che è già stata selezionata, garantendo gli interventi di inclusione di cui accennavo prima. Ci saranno ulteriori sviluppi? Da questo progetto nascerà qualcos'altro, secondo lei? Allora, la particolarità di questo progetto è che non viaggia in modo autonomo. Questo progetto fa parte di una rete di interventi, di un disegno portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni del Sangro e da tutti i comuni membri dell'Unione. Un progetto che mira a abbattere le forme di assistenzialismo, soprattutto quelle rivolte ai giovani, per creare delle opportunità di stabilizzazione concreta dal punto di vista lavorativo, eliminando tutte quelle forme di lavoro precario che attualmente si sono purtroppo consolidate sul territorio. Parliamo di borse lavoro, di tirocini extracurriculari, di tirocini di inclusione che per l'appunto rappresentano comunque un precariato a cui noi vogliamo dare invece concretezza.